Ben trovati, tra pochissimo comincerà il telegiornale, vi dico subito che gli occhi sono tutti puntati verso Parigi, non soltanto da parte dei francesi ma anche da parte delle cancellerie europee e dunque anche da parte italiana, per capire come andranno domani le elezioni, il secondo turno delle elezioni legislative francesi. Cercheremo di vedere quali sono gli ultimi sondaggi e le ultime dichiarazioni dei protagonisti. Vi dico subito che poco prima che cominciasse il silenzio elettorale, Marine Le Pen ha spiegato in maniera molto chiara e molto netta quale sarà la sua politica eventualmente, in caso di Vittoria la sua politica estera, in particolare rispetto all'Ucraina, ai rapporti con l'Ucraina e la Russia. Sono dichiarazioni piuttosto nette e non scontate. In caso di Vittoria, che però naturalmente non sappiamo se arriverà e soprattutto se arriverà quella maggioranza assoluta tanto ricercata dai lepenisti, perché secondo gli ultimi sondaggi appunto la situazione non è così chiara e così netta. Vedremo e cercheremo di capire perché in base alle desistenze. Ma vi dicevo, in realtà gli occhi di tutte le cancellerie vanno verso Parigi perché quel che accadrà domani influencerà pesantemente la politica francese, i mercati, le imprese, ma anche gli equilibri all'interno del Parlamento europeo. Ieri ve lo abbiamo raccontato, il partito Vox spagnolo ha deciso di cambiare gruppo, di andare dai patrioti per l'Europa di Orbán e questo sta cambiando la configurazione dei gruppi parlamentari europei con conseguenze dirette, lo sentiremo, lo vedremo nei servizi anche per quanto riguarda la politica italiana e gli equilibri all'interno dell'esecutivo, all'interno di quei partiti che sostengono il governo di maggioranza. Vedremo come. E a proposito di politica vi dico anche che è scoppiato un nuovo caso che è trasversale all'interno della maggioranza di governo e che riguarda l'obbligatorietà dei vaccini dei bambini, quel che riguarda i vaccini della rosolia, antirosolia, antimorbillo. Vedremo di che cosa si tratta e che cosa sta provocando. Ma parleremo anche di chi delle elezioni le ha già ampiamente vinte, parlo del premier britannico Starmer che ha fatto, come direbbe Moretti, qualcosa di sinistra perché oggi ha preso la sua prima decisione riguardo all'immigrazione e vedremo di che si tratta. Vedremo anche come sta procedendo la campagna elettorale negli Stati Uniti con il presidente Biden che continua a insistere, non voler fare un passo indietro, che oramai stanno chiedendo molti anche all'interno del suo partito e vedremo questo che cosa sta provocando. Come vedremo quali sono i margini di lavoro del nuovo presidente iraniano, considerato riformista ma tra mille virgolette, vedremo perché. Parliamo di notizie italiane, c'è stata una grande manifestazione a Latina contro il caporalato e il ricordo di Singh, lo ricorderete il bracciante indiano che è stato lasciato morire e dissanguato dopo un incidente sul lavoro. Molti politici e molti rappresentanti della società civile. E poi due casi di cronaca che restano ancora misteriosi. La scomparsa di fatto di Giacomo Bozzoli con un condannato in via definitiva all'ergassolo per l'omicidio dello zio. Ci sono novità dopo il rientro della compagna del figlio in Italia. E poi la morte di Alex Marangone trovato cadavere nel Piave dopo una serata lisergica. Ora si indaga per omicidio volontario. Tutto questo tra pochissimo meno di un minuto. Cominciamo il giornale. Buonasera, ben trovati. Allora ve lo dicevo oggi l'attenzione di tutti è verso la Francia, verso Parigi dove domani si terrà il secondo turno delle elezioni legislative perché quel che uscirà dalle urne francesi condizionerà in maniera molto significativa non soltanto la politica della Francia ma anche la politica europea, i mercati e le imprese. Dunque ci saranno conseguenze a cascata anche per quel che riguarda il nostro Paese. Intanto in questa giornata di silenzio elettorale naturalmente si sono diffusi sotto banco gli ultimi sondaggi e poco prima dell'inizio del silenzio ci sono state invece le ultime infuocate dichiarazioni dei protagonisti. Prima dell'inizio del silenzio elettorale ieri sera alla vigilia del voto cruciale di domani in Francia sono partiti i colpi bassi e le promesse forti come spesso accade. La prima mossa l'ha fatta Marine Le Pen in un'intervista con la CNN dove ha garantito che un eventuale primo ministro del Rassemblement National impedirà a Kiev di usare armi a lungo raggio fornite dalla Francia per colpire la Russia ed ostacolerà un possibile invio di soldati francesi in Ucraina. ipotesi più volte ventilata da Macron che essendo il presidente è anche il comandante in capo delle forze armate. Ma sostiene la leader del Rassemblement National l'ultima parola spetta al primo ministro della sua unica linea rossa sull'Ucraina a impedire che la Francia diventi un cobelligerante. Nell'intervista Le Pen ha contestato la definizione di estrema destra per il suo partito sostenendo che se fosse negli Stati Uniti il suo sarebbe un movimento a metà strada tra il centro-destra e il centro-sinistra. Entrambe queste dichiarazioni non hanno convinto l'intervistatrice Cristiana Manpur che ha addirittura chiesto alla Le Pen se la stesse prendendo in giro. C'è invece l'ombra della fake news e per i macroniani addirittura del complotto sulla notizia apparsa ieri sera sul sito del giornale Udimanche che l'esecutivo starebbe per sospendere una controversa legge sull'immigrazione. Informazione subito ripostata con commento dal premier impactore del Rassemblement Bardellà per denunciare una manovra tra Macron e Melanchon. Il primo ministro Attale e il ministro dell'interno Darmanen non solo hanno subito smentito ma hanno parlato di metodi trampiani di operazione ben rodata ma da chi? Per i macroniani dietro questa fake news ci sarebbe l'editore del giornale il miliardario Vincent Bolloré amico confidente finanziatore dei Republican di Eric Sioti. I gollisti spaccati dopo che Sioti ha annunciato l'appoggio a Marine Le Pen facendo gridare al tradimento il ministro degli esteri ha annunciato un'azione legale. Domani dicevamo urne aperte fino a sera i francesi dovranno prendere una decisione importante e non solo per loro ma probabilmente per l'intera Unione Europea. E dice bene Frediano Finucci una decisione importante anche per l'Unione Europea perché cambieranno gli equilibri dopo il voto francese in maniera significativa e ci sono grandi movimenti di acquisto all'interno del Parlamento Europeo nei vari gruppi spostamenti che possono far cambiare gli equilibri all'interno dell'Europarlamento. Ieri ve l'abbiamo raccontato il partito dell'estrema destra Vox spagnolo ha deciso di aderire al gruppo Patrioti per l'Europa che ha come obiettivo, è quello fondato da Orban per capirci, che ha come obiettivo finale quello di diventare il principale gruppo della destra all'interno del Parlamento e questo ha spaccato di fatto tutte le destre europee e oggi c'è una novità, un nuovo acquisto. Dopo la destra spagnola di Vox e quella dell'olandese Wilders, oggi è arrivata anche l'adesione dei popolari danesi che lasciano Identità e Democrazia, il gruppo della Lega di Salvini, per seguire Orban nella sua avventura ultrasovranista all'Europarlamento. Il nuovo soggetto dei Patrioti per l'Europa, promosso dal premier ungherese, marcia dunque spedito verso il superamento dei conservatori di ECR presieduti da Meloni. Impredicato di adesione al nuovo gruppo ci sono infatti anche gli eurodeputati della Lega, un'addizione non solo politica che potrebbe portare i Patrioti per l'Europa a superare la quota 78 di ECR, specie se dovesse perdere altri pezzi. La matematica pone in prospettiva il progetto di Orban come terza forza dell'Eurocamera, il puzzle prende forma e anche se ai fini delle maggioranze in corso di trattativa all'Europarlamento i Patrioti saranno sostanzialmente irrilevanti, spingono l'emiciclo verso una polarizzazione crescente e anche Meloni verso un inevitabile bivio. I deputati intercettati dal premier Maggiaro sono già sufficienti per formare un gruppo, ora li avrebbe anche da sette paesi ma l'operazione è tutta da chiudere, proprio mentre la sua Ungheria presiede il Consiglio dell'UE. A oggi abbondantemente superato i 23 iscritti necessari per formare il gruppo al Parlamento europeo, il partito di Orban Fides a 11 delegati, anno della Repubblica cieca a 7 deputati, l'FPO austriaco con 6, ciega dal Portogallo con 2 e Vox con 6 iscritti, più l'olandese Wilders altri 6 e la new entry dei popolari danesi. Con la Lega di Salvini e i 30 di Le Pen i numeri per superare i conservatori ci sarebbero. Le lancette corrono, i nuovi gruppi vanno formalizzati entro il 15 luglio, prima della sessione inaugurale in cui saranno eletti presidente, vicepresidente e questori e sarà definita la composizione di commissioni permanenti e sotto commissione. I popolari europei, primo gruppo UE, guardano con una certa irritazione all'operazione Orban, una manovra che secondo il vicepremier Tajani non crea però problemi al centro-destra in Italia e forse spingerà Meloni un po' più verso il centro di gravità che a Bruxelles danza tra socialisti, liberali e popolari. Cioè ieri il leader del Rega Salvini aveva definito, aveva ribattuto proprio a Tajani dicendo vedremo se sarà irrilevante il gruppo dell'estrema destra all'interno del Parlamento europeo. E oggi è questa dimostrazione che c'è una tensione sottile tra i partiti che sostengono la maggioranza, tanto che oggi si è aperto un nuovo fronte, un nuovo fronte di polemica e questa volta riguarda i vaccini, un emendamento che ha presentato proprio la Lega a firma di Borghi sull'obbligatorietà dei vaccini per i bambini. Il caso politico del giorno lo provoca la Lega con due emendamenti al decreto sulle liste di attesa in sanità all'esame del Senato con i quali si chiede di modificare la legge Lorenzina sull'obbligo vaccinale per i minori di anni 16. I vaccini contro morbillo, rosolia e varicella, secondo la nuova proposta, potranno essere solo raccomandati via anche l'obbligo di inserimento dei dati delle prestazioni nel fascicolo sanitario elettronico. La prima firma della proposta del Carroccio è quella del senatore leghista Claudio Borghi che spiega che l'obbligo vaccinale porta con sé il rifiuto, lo abbiamo visto con il Covid, molti vaccini che venivano dati per scontati e sicuri ora sono visti con diffidenza, su questi temi ci sia libertà di scelta sia per chi è a favore sia per chi è contrario. Parole che provocano un'ondata di durissime critiche, non solo da parte delle opposizioni, ad iniziare dall'ex ministro della Sanità Lorenzin che boccia l'iniziativa senza mezzi termini, purtroppo spiega che proposte del genere non hanno nulla di scientifico, lisciano solo il pelo ai Novax e minano la fiducia tra il cittadino e il medico. E questo è il problema. Gli epidemiologi dicono che non è questo il momento di ritornare al passato, l'obbligo vaccinale ha funzionato e sta funzionando. Duro anche un altro ex ministro della Salute, Roberto Speranza, per il quale si tratta solo di farneticazioni antiscientifiche da parte di chi pensa di poter lucrare su qualche voto Novax. Il Movimento 5 Stelle parla di populismo da strapazzo, la Lega strizza l'occhio al popolo Novax senza valutare le pericolose ricadute antiscientifiche. Ma critiche arrivano anche dalla maggioranza. Il centrista Lupi puntualizza lo stop all'obbligo vaccinale per i bambini è una sciocchezza che avrebbe conseguenze pericolose e non fa parte del programma di governo. Si mobilita anche la comunità scientifica, pronta già una petizione con 340 firme di luminari che ribadiscono non è il momento di abolire la legge sull'obbligo vaccinale. Sì, perché al di là del fatto politico bisognerebbe guardare i numeri. I numeri li ha diffusi il tavolo tecnico sulle vaccinazioni della società italiana di pediatria che ha spiegato che dopo l'obbligo vaccinale introdotto in realtà la copertura contro il morbillo per esempio è passata dall'87,2% al 94,4%. Dunque la copertura è aumentata proprio grazie all'obbligo vaccinale. Adesso continuiamo a parlare di politica, questa volta però britannica perché il premier, neoeletto, la burista Starmer ha fatto la sua prima cosa di sinistra come vi dicevo prima nell'apertura per citare Moretti e riguarda l'immigrazione una legge molto contestata, quella del ritorno in Rwanda. Sentiamo di che si tratta. Appena entrato a Downing Street il nuovo primo ministro Keir Starmer dal 2020 alla guida dei Labour non ha perso tempo. Un primo consiglio dei ministri convocato di sabato con tanto di conferenza stampa e subito un segnale di rottura con il passato. Fine del piano Rwanda il controverso progetto di trasferire nel paese africano consenziente in cambio di finanziamenti i richiedenti asilo giunti illegalmente nel Regno Unito. Costato oltre 270 milioni di sterline, un completo fallimento secondo Starmer. E poi attenzione alle classi più disagiate con l'obiettivo principale di salvare il servizio sanitario nazionale. Il lavoro è già iniziato sulle interminabili liste d'attesa di un sistema che il Premier definisce broken, rotto. Servono grossi investimenti e vedremo se ce la farà senza infrangere la promessa elettorale di non aumentare il debito pubblico e tagliare le tasse. Con una maggioranza piena, 412 seggi su 650 conquistati dai laburisti, frutto anche del distorsivo sistema uninominale maggioritario secco. La sua squadra ha per la prima volta nella storia britannica un ministro delle finanze donne, Rachel Reeves. David Lemmy poi agli esteri, confermata la politica di forte sostegno a Kiev, nonché nessun ripristino della libertà di circolazione né di rientrare nell'Unione doganale europea. Otto anni dopo il famoso referendum, nessun passi indietro sulla Brexit. A suo fianco la vice Angela Reiner fa parte dell'ala più a sinistra del partito che ha già promesso di dare battaglia. Non sono poche, infatti, le critiche che arrivano dalla stessa sinistra. L'ultima l'ha fatta oggi il regista Ken Lodge. Starmer ha spostato il Labour verso destra. A destra i conservatori raccolgono i cocci. L'ex primo ministro Sunak resterà per ora alla guida del partito per dare ai torisi il tempo di riorganizzarsi e contrastare l'ascesa del Reform UK di Nigel Farage, che ha drenato voti conquistando ben il 14,4%, anche se ha portato a casa solo cinque seggi, sempre per il sistema elettorale del first pass the post. Anche l'Iran ha un nuovo presidente, non primo ministro, ma presidente, considerato riformatore, anche se resta sempre il Parlamento, il Majlisse, in mano ai conservatori. Era data per probabile, ma non per scontata, la vittoria al ballottaggio del riformista Masoud Petzeskian, cardiochirurgo settantenne. L'Iran religioso della guida Kamenei, difeso dai Pazaram, passa dunque la mano a questo candidato con un lungo passato nel mondo della sanità iraniana, ma sino a qualche settimana fa sconosciuto ai più. Ha vinto con un distacco finale di 3 milioni in mezzo di voti dal candidato di regime ultraconservatore Saeed Jalili, in un'elezione che ha visto alle urne poco più della metà dei cosiddetti aventi diritto. Non conta l'opposizione sia interna che in esilio parla da ore di fine del despotismo religioso, di boicottaggio riuscito, di un'area potenzialmente diversa, dove chi ha vinto, sostengono in molti, sono quelli che non hanno ceduto a minacce e intimidazioni. Ed è qui, si dice in queste ore a Teheran, che può iniziare il rovesciamento del regime teocratico e nascere una Repubblica democratica. Kamenei, guida spirituale, si è fatto sentire subito, saputo dell'esito del voto. Non a caso ha chiesto esplicitamente al presidente eletto di governare assicurando continuità con le politiche del defunto presidente Ebrahim Raisi, di affiancarsi ad un Dio misericordioso per guardare avanti verso nuovi orizzonti. Così Kamenei, che il neopresidente in questi anni non ha mai criticato apertamente, mentre lo ha fatto spesso con Raisi, accusato di aver condotto l'Iran ad una violenta crisi economica e sociale. Per Pezeskian sono molti i dossier aperti, dall'accordo sul nucleare di Teherana, alle relazioni con paesi amici come Russia e Cina, all'appoggio militare iraniano a Palestina, Libano e Siria, con un focus particolare sulla guerra lungo la striscia e poi in casa, dove Pezeskian si vuole impegnare in fatto di politiche sociali, pluralismo, diritti umani, in battaglie come quelle sul velo obbligatorio, su cui il presidente Neoletto ha promesso di dare battaglia. Con questo plafond di temi o se volete di problemi, il medico nato in Azerbaijan si presenta in un Parlamento controllato dai religiosi. Una scommessa che Pezeskian vuole vincere con l'aiuto del popolo, anzitutto. Chiedo a tutti cooperazione, empatia e fiducia, dichiarato perché sembra davvero esserci un'aria nuova nei cieli di Teheran, guardiani della rivoluzione, permettendo. Non c'è area nuova invece negli Stati Uniti perché il presidente attuale Joe Biden, nonostante le critiche e le difficoltà, continua a ribadire che farà un passo indietro soltanto se lo dovesse chiedere. Dio onnipotente, ha detto letteralmente così durante un'intervista esclusiva all'ABC ieri sera. Ieri sera Biden ha parlato della sua salute in un'intervista alla ABC. Sono ancora in forma, nessuno ha detto che ho bisogno di test neurologici e cognitivi, faccio un test cognitivo ogni singolo giorno. Biden dunque non molle, cerca di rassicurare gli americani nel momento più difficile del suo mandato. Il presidente è apparso riposato e sicuro, tutta un'altra storia rispetto al duello televisivo con Trump nove giorni fa. Secondo il deputato Ronny Jackson, già medico sia del presidente Obama che di Trump, sostiene come la famiglia stia cercando di nascondere il peggioramento della salute cognitiva del presidente americano O'Connor per i Biden. È uno di famiglia, ha detto Jackson, mentre il New York Post, quotidiano non certo vicino ai democratici, rilancia con quello che definisce uno scoop e scrive di aver avuto la possibilità di vedere i registri con la relazione del pool di medici che avrebbe visitato il presidente americano ad inizio anno. O'Connor, medico personale di Biden, il mese successivo aveva poi rilasciato un certificato di buona salute del presidente. Per capirci, Kevin Cunnar da gennaio aveva visitato il presidente Joe Biden ed è considerato un'autorità nel campo del Parkinson da quasi vent'anni. Dal 2012 è specialista in neurologia e supporto dell'unità medica della Casa Bianca. O'Connor invece si occupa della salute del presidente da gennaio 2021, quando è stato eletto presidente USA. Durante quella visita medica a inizio anno è stato escluso che Biden potesse soffrire di Parkinson, affermò O'Connor all'epoca. Ieri la Casa Bianca ha fatto sapere che Biden ha avuto un nuovo colloquio con O'Connor dopo il dibattito televisivo con Trump, ma di più non si sa. E poi c'è la questione interna ai democratici, la fronda che punta a sostituire Biden con addirittura una maxi colletta nel caso spuntasse un valido candidato alternativo prima della convention. La sua candidatura rimane quindi in bilico, preoccupa il calo nei sondaggi, smentito dall'enturace del presidente. Nei prossimi giorni sono previste nuove riunioni tra i leader democratici al congresso. intanto Biden tira dritto, domani sarà a un evento in Pensilvania. Oggi a Latina si è tenuto un cortavo manifestazione per ricordare Singh, il brecciante indiano che è stato lasciato morire di sanguato in condizioni davvero indegne di una società civile dopo un incidente sul lavoro. È una manifestazione naturalmente contro il caporalato. Davanti a migliaia di persone dal palco della CGL risuonano i numeri dello sfruttamento senza regole del caporalato. 3 milioni di persone costrette a lavorare in nero. Una manifestazione nazionale come risposta alla morte di Satnam Singh, il brecciante indiano abbandonato con un braccio amputato mentre lavorava nelle campagne della zona. Dal palco Landini ribadisce la necessità di aprire un'avvertenza permanente per sconfiggere caporalato e sfruttamento. Non una battaglia di parte, dice, ma una lotta per la democrazia. Quello di Satnam Singh denuncia la CGL non è un caso isolato, ma c'è un intero sistema da cambiare. Ciò che oggi favorisce il lavoro nero e la clandestinità ha un nome e un cognome. Si chiama legge Bossi-Fili. Concedere il permesso di soggiorno a chi già lavora in Italia, cancellare i ghetti e introdurre l'indice di coerenza per verificare come sia possibile che un'azienda con alti livelli produttivi abbia in realtà solo 3 o 4 lavoratori regolari. Queste le proposte presentate oggi con i sindacati che annunciano di voler depositare un esposto in procura a Latina per sostenere le indagini, raccontando tutte le irregolarità di cui sono venuti a conoscenza. Alla manifestazione di oggi presenti anche diversi esponenti del PD e il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Noi proponiamo l'istituzione come Movimento 5 Stelle dell'omicidio sul lavoro. Il governo, che ha già annunciato 1500 ispettori in più entro pochi mesi, è pronto a fare anche un altro passo. La ministra del lavoro Marina Calderone la prossima settimana incontrerà le parti sociali per accelerare sull'attuazione della patente a punti e penalizzare così le imprese non rispettose delle regole. La percentuale di irregolarità di vario genere riscontrata nelle imprese agricole all'indomani della tragedia di Satnam Singh è di oltre il 60%. Per questo entro l'anno la ministra ha annunciato anche l'istituzione di un commissario al caporalato con poteri speciali. C'è anche un altro aspetto che riguarda l'indegna società perché è stato possibile per un uomo condannato in via definitiva all'ergastolo per un omicidio scomparire e svalire nell'urna. È il caso di Giacomo Bozzoli. Di Giacomo Bozzoli almeno dal primo luglio, il giorno della condanna all'ergastolo per l'omicidio dello zio, non sappiamo nulla, un fantasma che la compagna Antonella Colossi, rientrata ieri a Brescia in treno col figlio, non sa, non può, non vuole spiegare dove si trovi. Il suo faccia a faccia con i carabinieri in caserma da testimone dunque senza poter mentire e senza avvocato è stato pieno di buchi. La donna ha detto che sono partiti in auto il 23 giugno per una vacanza, sono passati da Cannes in Costa Azzurra, poi a Valencia per un giro all'acquario, quindi sono scesi fino a Marbella sulla Costa del Sol, città rifugio di tanti criminali, spesso mafiosi. In realtà a Marbella l'hotel era prenotato dal 20, sono veramente queste le tappe della famiglia Bozzoli, bisogna guardare nei filmati delle telecamere per avere conferma che la coppia sia stata sempre insieme fino a lunedì scorso. Sempre seguendo il filo del racconto di Antonella Colossi, dopo la sentenza i genitori hanno spiegato al bambino, che sta per compiere nove anni, che si sarebbero dovuti separare dal padre. Uno shock, ha detto la donna. Il primo luglio un albergo, diverso da quello che la famiglia avrebbe dovuto condividere, ha registrato solo il passaporto di Antonella. Da lì si entra nella nebulosa della fuga di Bozzoli e la testimonianza della sua compagna si riempie di non so, non ricordo. Non è riuscita nemmeno a ricostruire come si è arrivata al treno che l'ha riportata a casa, né dove abbia dormito dopo il primo luglio. Riempire i vuoti e i giorni alla macchia di Bozzoli non è semplice. La convinzione è che l'imprenditore abbia pianificato per tempo le sue mosse, anche se non è un boss e non è facile costruirsi una rete di protezione. Potrebbe avere un documento falso, una provvista di denaro, un appoggio straniero o tutte e tre le cose insieme. Per nascondersi dove vale tutto. Il sospetto che possa essere fuori area Schengen. Marocco, per esempio, perché da Tarifa o da Algeciras, così vicino a Marbella sarebbe la cosa più veloce. America Latina oppure un paradiso fiscale, uno di quei posti dove certi imprenditori possono nascondere i loro capitali e volendo anche se stessi contare su appoggio opachi, comprare una nuova cittadinanza che renda farraginosa la procedura di estradizione. Insomma, un mistero. Ma c'è anche un altro mistero. Come è morto Alex Marangon, che è stato ritrovato cadavere sulle rive del Piave dopo una serata presumibilmente lisergica. L'unica cosa certa per ora è che la procura sta indagando questa volta per omicidio volontario. Un'aggressione violenta con un corpo contundente, un bastone, forse il ramo di un albero. I colpi alla parte sinistra della testa hanno provocato un trauma cranico ad Alex Marangon, quelli ricevuti al torace una grave emorragia interna. Potrebbero essere state più persone ad accanirsi contro il barman 25enne di Marcon nel veneziano. La morte è avvenuta per annegamento nel fiume Piave quando era già in fin di vita. È il procuratore capo di Treviso Marco Martani a chiarire questo pomeriggio, dopo i primi esiti dell'autopsia avvenuta ieri, che Alex Marangon è stato ucciso con violenza e non per cause accidentali. Cambia l'ipotesi di reato del fascicolo aperto contro i gnoti. Non più morte causata ad altro delitto, ma omicidio volontario. Rimangono però ancora molti punti oscuri da chiarire. Alex era scomparso la notte tra sabato e domenica scorsi. Il corpo ritrovato martedì su un isolotto sul greto del Piave, quattro chilometri più a valle rispetto alla abbazia sconsacrata di Santa Bona di Vidor, nel Trevigiano, dove è stato visto per l'ultima volta. Era andato con un amico. Si erano uniti al gruppo di una ventina di persone per l'evento New Age, organizzato da Andrea Zuin, chitarrista e narratore di musiche spirituali. Su riti sciamanici e l'assunzione di bevande allucinogene sono in corso accertamenti da parte della Procura. Solo i risultati tossicologici attesi nelle prossime settimane potranno confermare o meno se Alex Marangon ha bevuto dei decotti di erbe amazzoniche che potrebbero avergli offuscato i sensi. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto il ragazzo allontanarsi verso un terrapieno di una decina di metri, seguito da due persone presenti al raduno. Esclusa la caduta accidentale nel vuoto, l'abbazia non si affaccia sul fiume Piave. Ci sono sassi e ciotoli prima di arrivare alla riva. Per il legale della famiglia Marangon, l'autopsia restituisce un quadro inquietante, quello di un'aggressione potente, sfuggente, nel corso di una colluttazione che male si concilia con una caduta fortuita e si appella a chi c'era sabato sera. Con spirito di pietà, parlate perché più persone sanno quello che è successo. Sono già stati sentiti dagli inquirenti alcuni dei partecipanti a quella serata. Le telecamere di sorveglianza nei dintorni dell'abbazia potrebbero rivelare particolari importanti su cosa è successo ad Alex Marangon e chi l'ha ucciso. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'attenzione e passo la linea ad aprile e telese. Buona serata. Grazie.